Abbiamo fatto una limousine, una foto da adesso il furgone dell'acropa di fruto Ragazzi non si possono... non da poco L'acqua mi viene raccomando Dov'è Berto? Berto? Vogliono Berto, qui è la console Berto, vi vogliamo qui la console Berto, vi vogliamo qui la console Wow La mia opzione per accontillare un suono Un applauso Continua, un applauso Sì, un applauso Grazie, grazie Con questo pezzo la nostra giardina di saluta La serata continua con il sacco e la mando, fratella Gastronomia La mia opzione per accontillare un suono 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 Un applauso per Jasmine Vieni, vieni Jasmine, vieni qua, attenzione Vieni qui vicino a me Vi facciamo un applauso Per due giorni è stata qui a disposizione Con il nostro staff Inversamento speciale A Daniela e tutto lo staff Grazie